Quanti di voi vivono a San Lorenzo? Alzate le mani, tanto non vi vedo, vedo tutto buio. Tanti o povi? Annalzate la mano. Poi. Poi. Ecco adesso vedo. Questo pezzo mi è venuto in mente mentre facevo il traslogo, perché io circa un mese fa mi sono trasferito a Torpignattara lasciando questo quartiere, un po' per dei motivi che appunto di questo. E mentre mi traslocavo mi è venuto in mente un mio grande maestro, Remo Remotti. Chi lo conosce, Remo Remotti, alzate le mani. Grazie. E questo perché me ne vado da questa San Lorenzo tormentata, da questa San Lorenzo commercializzata, sempre più degradata. me ne vado da questa San Lorenzo dell'epizziataio, degli aperitivi a 5 euro, degli scrittori che fanno yoga, dei corsi di tribal fusion, dei corsi di kung fu panda. Me ne vado da questa San Lorenzo dei corsi di laurea che finiscono con la festa in piazzetta, con i parenti che li ha presi circondati dai tostici, scandalizzati, che se guardano i nipoti, se guardano i nipoti e pensano e gli avevo pure fatto studi a psicologia questi. Me ne vado da questa San Lorenzo della facoltà di psicologia e della facoltà di spendere 600 euro per una stanza. Me ne vado da questa San Lorenzo dove chiudono i parchi, chiudono le biblioteche, chiudono le strade al traffico, chiudono gli scorsi dicendo però alla fine non si è stato tanto male. Chiudono le altaline ai bambini ma aprono un tumbe per il cato 24 su 24 e ci fanno pure la festa con i palloccini. Me ne vado da questa San Lorenzo dove le librerie non fanno una liria, sebbene stanno a pochi metri dal centro universitario più grande dell'Europa. Me ne vado da questa San Lorenzo degli sciontini per strada, sulle panchine, al mercato, a Villa Mercede, che c'è una canna, vediamo sali 15 al Marani. Me ne vado da questa San Lorenzo, vuoi qualcosa ci? No. 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 Guarda, l'ho detto anche all'amico tuo prima, no. Vuoi qualcosa ci? No. Vuoi qualcosa ci? No. Vuoi qualcosa ci? No. Vuoi qualcosa ci? Vabbè, dammi questi due grammi d'eroina così, la fammo finita. Me ne vado da questa San Lorenzo dove vogliono tutti andare a vivere, dove nessuno vuole andare a vivere, da questa San Lorenzo dove uno studente non ha mai parlato con un bengalese, un bengalese non ha mai parlato con un pancabestia, un pancabestia non ha mai parlato con un radical chic, e un radical chic non ha mai parlato bene con i genitori, altrimenti non gli avrebbero dato tutti quei soldi per vivere come un coglione. Me ne vado da questa San Lorenzo. Ho scoperto la bicicletta, la bicicletta, non puoi capire, tre minuti per andare a Piazza del Popolo, cinque ottaviano, dieci minuti all'euro. Ma che cazzo la bicicletta la ti hai comprato? Che cazzo? Me ne vado da questa San Lorenzo, capitale italiana delle fotocopiche, dove entri ed esci che sei sempre lo stesso ma più spiadito. A Coloni paghi 50 centesimi in più. Me ne vado da questa San Lorenzo borghese, questa San Lorenzo che ti fa pensare il culo, che ti fa pensare che tutto il mondo è San Lorenzo, che ti fa pensare a Garbatella come una popolazione lontana dove la gente è più garbata. Me ne vado da questa San Lorenzo che è meglio del pigneto perché si accoltellano lo stesso numero di persone ma a San Lorenzo è più tra di loro. Me ne vado da questa San Lorenzo. Mi sono arrivato in Tre Munte, Guitalia per strassi e poi capì, c'hai dieci euro da prestare, fammo così, andammo da Giuffase, prendevo un tè e stiamo seduti quattro ore, va bene? E mi parli bene di questa tua casa che devi lasciare, che forse me la compro io coi soldi da nonna, che dici? Dai che me compro, così poi mi paghi l'affitto in nero, pensa che bello, mi paghi l'affitto a me, dai, andammo a festeggiare il macrobiotico, tutti i macrobiotici a festeggiare, dai, andammo al macrobiotico che mi fa male la vaccina, ieri mi ha fatto male, il macrobiotico 30 euro a capoce, che cazzo se ne frega, andammo al macrobiotico. Me ne vado da questa San Lorenzo, dove c'è il record europeo di distanza minima tra una chiesa e cento persone che si drogano. Da questa San Lorenzo che si difende, che stringe i denti, ma perde contro se stessa, questa San Lorenzo del circo del PD, del circo dei comunisti, che si riempiono solo quando c'è la partita dell'Italia. del cinema palazzo su cui non posso fare battute perché ospita tutti i miei spettacoli, come si vengono la luce. Della palestra popolare su cui non posso fare battute perché mi fanno un culo così. Me ne vado da questa San Lorenzo delle occupazioni della municipale che temi su una corcettimetro, l'occupazione del suolo pubblico, dei tavolini, mentre si stanno a menare, mentre si stanno a tirare i borghi in testa a 5 metri, i borghi si stanno a tirare, mi scusi, sono 15 centimetri in più il tavolino, si stanno a ammazzare, c'è il sacro, che non lo vedi. Me ne vado da questa San Lorenzo, è colpa degli speculatori di Lizzi, è colpa dei bengalesi, è colpa degli spacciatori, è colpa dei cani che cagano dappertutto, è colpa dei catalesi, è colpa dell'amaro Lucano, è colpa degli agenti mobiliari, è colpa di Celestino, è colpa dei padroni dei cani che cagano loro da una macchina all'altra, è colpa di chi viene a comprare il fumo, è colpa di chi lo vende il fumo, è colpa dei vecchietti, è colpa dei poesieri, è colpa del freno che con i suoi discorsi strai inopportuni e faccio mai più delle occasioni. Me ne vado da questa San Lorenzo, dove nessuno ancora ha capito che ci sta veramente dietro tutto questo, chi ci sta a fare i soldi che nessuno se ne accorge, chi ci sta veramente a fare i soldi senza nessun sospetto. Allora, seguitemi. Li fanno nascere a Policlinico, li fanno studiare all'università, poi li ricoglioniscono con i corsi di yoga, li immagano da un psicologo a via Isabelli, quindi gli vendono le droghe in piazzetta, li ammazzano con l'alcolismo a 1,50 e dove li sotterrano? Dove se la comprono? La barra, i fiori, i cassa portali sono loro per curarvi negli del tuo quartiere che hanno per controllo di un ciclo completo, i cassa portali sono loro che hanno Sal Lorenzo, me ne vado da questa Sal Lorenzo che si è diventata un po' la merda. Ma magari torno, come se stavo un attimino con i soldi, torno subito. Sal Lorenzo, addio! Grazie. 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 Grazie.